Pronto? Pronto, mi senti? Io ti sento, tu mi senti bene? Benissimo, benissimo Vediamo che stai scendendo e sei arrivato praticamente, vero? Sì, sono arrivati sul centro, è arrivata anche Francesca, è una telecamera che mi riprenda e passiamo su un colvale di 9 metri Ok, dici pure Gabriele Ma da dove siete partiti? In che senso? Dove ci troviamo ora? Sì Sì, dove ti trovi ora? Ora mi trovo di fronte alla spiaggia dove c'è il colpo di collezca, dove c'è lo stabilimento Baleare, a circa 300-400 metri dalla costa e mi trovo a una profondità di 8 metri C'è Marta che adesso ti chiede qualcosa Parla ancora Ma come fate a fare il trapianto delle Posidonie? Allora, in questo caso, qua a Piumbino, è stata fatta passata sola, su una misura di circa 2 metri e 60 per 2 metri e 70, con tutta questa piantina, che si trovavano già passata, ed è stata veramente fatta, perfetta, perfetta Parla ancora Un altro metri dalla costa Grazie Grazie a tutti.